numero 6 la leggenda vuole che l'origine della vite sul vesuvio si debba alle lacrime di gesù in uno scenario sorprendente sulle pendici di uno dei più grandi vulcani d'europa le migliori varietà autoctone a bacca bianca della campagna danno vita a lacrima cristi l'azienda feudi di san gregorio produce questa versione bianca con uve coda di volpe falanghina attraverso una vinificazione e un breve affinamento in acciaio la confezione comprende 6 bottiglie il suo costo è di circa 74 euro numero 5 spettacolari taralli napoletani con mandorle e pepe prodotto artigianale la confezione comprende 2 kg di taralli il costo è di circa 24 euro per il prezzo aggiornato e l'acquisto guarda il link in descrizione numero 4 treccioni di bufala campana dop di pestum piana del sele ad alta digeribilità pezzatura da un chilo ma disponibilità anche di più chili consegna in 24 ore al fine di garantire la freschezza del prodotto vengono raccolti gli ordini 7 giorni su 7 ma il prodotto viene spedito nei soli giorni di lunedì martedì e mercoledì ottimo prodotto il suo costo è di circa 25 euro numero 3 falanghina sannio doc feudi di san gregorio ottimo vino bianco campano questa bottiglia di vino di uve falanghina ha un sapore fresco ed equilibrato con un agusto intenso può essere servito con formaggi freschi la confezione comprende 6 bottiglie il costo è di circa 47 euro numero 2 la mozzarella di bufala campana dop fa parte di quei formaggi freschi a pasta filata prodotta esclusivamente con latte di bufala la mozzarella di bufala campana di pestum è facilmente digeribile è un'ottima fonte di proteine ad elevato valore biologico a cui si accompagna un moderato apporto di grassi al fine di garantire la freschezza del prodotto il prodotto viene spedito nei soli giorni di lunedì martedì e mercoledì il costo del box è di circa 24 euro numero 1 limoncello 100 per cento naturale confezione regalo con due bicchieri in ceramica di vietri sul mare dipinti a mano il limoncello è un liquore dolce ottenuto da un'antica ricetta tramandata da generazioni prodotto assolutamente naturale ottenuto secondo la tradizione centenaria dell'antica distilleria petrone dall'infusione delle bucce di limone in alcol purissimo questo liquore ricco di aromi mediterranei inoltre è conosciuto per le sue virtù digestive il costo è di circa 28 euro